Salve a tutti e ben ritrovati, ancora una volta arriva l'anticiclone africano sull'Italia e sulla Puglia, è già la seconda tornata africana nel giro di una settimana, infatti questa è la situazione della pressione, vedete la cupola anticiclonica che si spinge sin verso l'Europa centrale, tiene lontane le piogge, le perturbazioni e avremo quindi un fine settimana stabile, soleggiato e anche molto caldo, con temperature che vedete segneranno delle anomalie inquietanti, addirittura a 1500 metri di quota su alcune zone dell'Europa centrale, raggiungeremo fino a 20 gradi in più rispetto alla media del periodo e anche l'Italia si fa fatica a vedere sotto questa cupola di temperature molto più alte del normale fino a 10-15 gradi in più rispetto alla media, queste anomalie si ripercuoteranno anche a livello del suolo e infatti avremo delle giornate molto uniti, partiamo da oggi sabato 6 aprile con un cielo in prevalenza sereno su tutta la Puglia, ventilazione che sarà debole o moderata dai quadranti nord-occidentali e massime che toccheranno diffusamente 24-25 gradi, mite anche durante le ore notturne con valori ovunque al di sopra di 10 gradi. Nella giornata del domani, domenica 7 aprile, prosegue ancora il bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, temperature che non subiranno variazioni di rilievo. Chiudiamo infine con la prossima settimana, lunedì 8 aprile, ancora bel tempo con cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale, temperature in ulteriore lieve aumento, picchi fino a 26-27 gradi durante le ore centrali della giornata, temperature minime anche in lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti. ventilazione che ruoterà dai quadranti sud-orientali e questo cambio di ventilazione sarà comunque un sintomo di un cambiamento che arriverà nel corso della prossima settimana quando avremo l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che coinvolgerà anche la nostra regione. Quindi non perdete gli aggiornamenti, vi aspetto martedì. Grazie per l'attenzione, buon weekend. Grazie.